Accensione di due gruppi di lampade comandata da più punti. Il relè di commutazione. L'impianto visto precedentemente può essere facilmente steso a più punti di manovra inserendo più pulsanti come illustrato nello schema in figura, in cui sono presenti due pulsanti e i puntini indicano la possibilità di inserire altri pulsanti a seconda delle esigenze dell'impianto elettrico. In questa figura si illustrano invece i collegamenti da realizzare nel caso di tre pulsanti 1, 2 e 3, posti all'interno di una stanza. Si osserva che il conduttore di fase alimenta i tre pulsanti 1, 2 e 3 e lo stesso conduttore di fase alimenta i due interruttori del relè di commutazione. Dai tre pulsanti partono poi i tre conduttori che alimentano la bobina del relè di commutazione. L'altro capo della bobina del relè di commutazione è direttamente collegato al neutro. I due interruttori del relè di commutazione sono collegati ai due gruppi di lampade. I gruppi di lampade poi sono direttamente collegati al conduttore del neutro dell'impianto. Chiaramente il groviglio di cavi, illustrato in questa figura, va ottimizzato per ridurre al minimo il numero di tracce da realizzare. E come abbiamo fatto negli altri casi, dobbiamo individuare nella stanza la posizione dei tre pulsanti. La posizione dei gruppi di lampade e la posizione del relè di commutazione. Individuate le posizioni degli elementi dell'impianto, possiamo individuare le tracce da effettuare, che nel nostro caso sono quattro. Tre dirette verso i pulsanti e una quarta traccia diretta verso i gruppi di lampade. Su queste quattro tracce vanno alloggiati tutti i cavi dell'impianto da realizzare. I cerchi in rosso, uno, due, tre, quattro, individuano i tubi che devono essere alloggiati nelle quattro tracce, che abbiamo individuato nella figura precedente. I tubi saranno poi attraversati dai cavi secondo lo schema di figura. Si osserva che si sta supponendo che il cavo del neutro e della fase siano disponibili, neutro e fase, nella stessa scatola di derivazione in cui è alloggiato il relè. Ecco, in precedenza abbiamo accennato al fatto che i relè possono differenziarsi in base alla sequenza di accensione. Vi sono modelli, inoltre, in cui alcuni contatti sono raggruppati in un unico contatto. Ed è proprio per questi motivi che è sempre bene leggere le caratteristiche di funzionamento prima di procedere all'acquisto. A tal proposito va segnalato che spesso nei manuali i contatti dei relè vengono indicati con delle lettere o con dei numeri. Nel caso di un relè di commutazione, i contatti della bobina vengono indicati con le sigle A1 e A2. I contatti dei due interruttori vengono invece indicati con i numeri 1, 2, 3 e 4. 1 e 2 per il primo interruttore, 3 e 4 per il secondo interruttore. Partendo da questo schema, realizziamone uno analogo in cui il pulsante viene collegato al conduttore di neutro. Come si osserva da questo nuovo schema, la bobina viene alimentata permanentemente con il cavo di fase. Mentre il cavo del neutro raggiunge il contatto della bobina solo quando viene premuto il pulsante. Per il resto il circuito è rimasto identico al precedente. Ciò che si osserva in questa nuova configurazione è che abbiamo tre contatti, contatto numero 1, il 3 e il contatto A1, che sono collegati direttamente al conduttore di fase. E per tale motivo non esiste una reale differenza tra questi tre contatti del relè. Ecco perché in alcuni modelli questi tre contatti collassano in un unico contatto, come evidenziato nella figura seguente. Dove il contatto A1, il contatto A1 e il contatto A3 collassano in un unico contatto. In questo caso quindi l'unico contatto che sostituisce i tre contatti precedenti viene indicato con il simbolismo A1, 1, 3 ad indicare i tre contatti. Anche per il relè di interruzione è possibile collegare il pulsante al cavo del neutro. Con riferimento a questo tipo di implementazione è possibile impiegare il relè in cui si ha un unico contatto indicato con A1, 1 e che collega il conduttore di fase alla bobina e all'interruttore del relè di interruzione.